Uno dei trend del 2023 è assumere dei tiktoker in azienda Il trend per crescere nel 2023 sarà mettersi in camera, riprendersi, raccontare un po' la propria vita Sento in dovere di dover ridare lo stesso valore a chi me l'ha dato all'inizio Google è un logo ma anche logotipo, puoi chiamarlo in entrambi i modi sostanzialmente Il marchio è sempre l'aspetto visivo di un logo ma ci si riferisce a livello legale Perché tutti dovrebbero avere un brand e una strategia secondo te? Ciao, io sono Elgazi e questo è il podcast di Elgazi E l'host di oggi sono io chiaramente, noi non abbiamo co-host Qui con me oggi abbiamo Roberto Iadanza Ciao Roberto Ciao a tutti Ciao, come stai? Tutto bene Abbiamo detto prima come stai e tutto Interessante i tuoi lavori, i tuoi progetti online, contenuti che fai online Adesso abbiamo messo anche tutti i link in descrizione così le persone possono vedere e scoprire un po' di più su di te Raccontaci un po' chi è Roberto Iadanza Allora, io sono sostanzialmente un graphic designer Penso un po' come tanti, no? Che hanno di base comunque questa skill Però nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi anni mi sto dedicando molto di più al branding Però relativamente alla parte strategica Oltre che alla parte di design Quindi nasco così come graphic designer autodidatta Nel senso che io ho cominciato più di 15 anni fa E quando ho iniziato io non c'erano scuole di design Quindi tutto quello che ho imparato l'ho imparato guardando video su YouTube Sì Comprando libri, all'epoca si compravano i libri o i tutorial Sì, le guide di Photoshop, i manuali Io ho iniziato, in realtà l'input è arrivato all'università Perché io sono laureato, ma una triennale sostanzialmente Un corso di laurea che si chiama Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale Praticamente era un corso che faceva parte di un corso di laurea All'università di Ferrara Era un corso abbastanza innovativo Perché era il learning, no? Quindi andavo solo a fare gli esami Per l'epoca era qualcosa di abbastanza innovativo Era un corso sperimentale E poi c'erano dei laboratori In uno di questi laboratori abbiamo iniziato a sviluppare tipo un sito web A fare delle grafiche Chiaramente i siti web di allora erano fatti con le tabelle Diciamo un altro modo di lavorare E da lì è arrivato un po' l'input Insomma lì ho capito che quale poteva essere la mia direzione Poi quando sono tornato da questi laboratori ho iniziato a studiare Era solo Photoshop, insomma Illustrator Anzi all'epoca utilizzavo Freehand Poi da Freehand sono passato a Illustrator Freehand ci hai mai sentito parlare? Sì, sì, perché in pratica c'era questa azienda che si chiamava Macromedia Che aveva tutta una serie di software Tra cui Flash, forse Flash lo conosce Non so, era il programma di animazione Sì, sì, assolutamente Poi è stata acquisita questa azienda da Adobe E quindi hanno tolto di mezzo tutte queste applicazioni Che erano sostanzialmente dei concorrenti Sì E quindi poi da lì sono passato a Illustrator Perché chiaramente poi con Freehand non c'erano più aggiornamenti E quindi era inutile continuare lì Quindi niente, questo è il mio percorso in breve Però adesso mi occupo principalmente di branding Ok Come hai visto anche dal canale parlo principalmente di quello Ok, ok Tu di che origini sei? Io sono campano Ok, si sente? Si sente dall'accento Anche se cerco di nasconderlo Aprendo bene la bocca Insomma cercando di Cioè non è che lo nascondo Però vorrei cercare di avere una lezione migliore Soprattutto quando faccio i video Però nello specifico abito a Salerno Provincia di Salerno Un piccolo paesino di 15.000 abitanti Che si chiama Campagna Ah, ok, ok Sì, sì, sì Io amo il Sud Italia Sì Lo amo Poi guarda questo tipo di lavoro Ti permette comunque di Come dire, di lavorare un po' ovunque, no? Quindi di avere anche clienti del nord Oppure clienti esteri Questa è, diciamo, la fortuna, secondo me Il nostro lavoro Sì, 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 assolutamente Quindi adesso ti occupi di brand e strategia, giusto? Ok, corretto Sì, principalmente sì Ma una domanda che volevo farti È, diciamo, un'informazione utile Perché tutti dovrebbero avere un brand e una strategia, secondo te? Allora, a livello personale o a livello aziendale? Beh, immagino che ci sia sia a livello personale che aziendale Raccontaci un po' le differenze anche Sì, sì, vabbè, per le aziende è fondamentale perché Soprattutto per differenziarti rispetto ad altre aziende, no? Magari anche nel tuo settore Ma poi sembra una cosa scontata ma non lo è, giusto? No, allora, tu calcola che Allora, la parte della strategia Non tutte le aziende la fanno Ma semplicemente perché si affidano magari a dei grafici freelance Che gli progettano magari soltanto il logo Il logo, il coordinato, eccetera Mentre invece la parte strategica viene sempre fatta di solito dalle grandi agenzie Però secondo me adesso anche il freelance deve iniziare Come dire, a basare quello che progetta su una strategia, no? Sì La strategia parte da quelli che sono i valori dell'azienda Quelli che sono gli obiettivi, la mission, la vision, no? Quelli che, come dire, sono le fondamenta Per la realizzazione poi dell'output finale Quindi di tutta la parte visiva, no? Io faccio sempre l'esempio di un iceberg Ok Quindi la parte su è quella che vediamo Tutta la visual identity, il logo, eccetera Mentre la parte sotto, quella che non vedi È tutta la strategia, no? Tutta la parte valoriale Che ti permette di creare una connessione forte con i tuoi clienti E la stessa cosa la puoi adattare al personal branding Certo Quindi, come dire, se ragioni su il tuo brand personale Anche lì puoi fare una strategia Per capire chi sono i tuoi potenziali clienti Qual è magari l'archetipo che puoi utilizzare per connetterti con loro E quindi da lì poi riesci a creare un'immagine forte di te O della tua impresa Serve a, diciamo, rimanere impressi nella mente delle persone In maniera efficace Esattamente, sì, sì, sì Poi questo tipo di lavoro qui lo fai con la comunicazione Con quello che tu comunichi agli altri, no? Alla fine un brand, se ci pensi, è come una persona Se vogliamo fare un paragone, no? Il logo è l'aspetto fisico Cioè l'aspetto del viso, no? Mentre il brand è il carattere Il tono di voce, no? La personalità Ok, quindi ci sono tutti gli aspetti Legati agli aspetti degli esseri umani Quindi tutto il tono di voce, eccetera Va legato al brand Sì, perché poi alla fine tu comunichi con le persone Quindi devi trovare i modi Per comunicare, come dire, appunto In modo giusto con le persone In questo modo tu riesci a creare una connessione forte, no? Sì Poi ci sono tanti esempi che si potrebbero fare Basta vedere tanti brand conosciuti, no? Tipo Patagonia, tipo Apple Che comunicano uno stile di vita, no? Ad esempio Patagonia, l'avventura Quindi c'è l'archetipo, appunto, dell'esploratore Sì Quindi ci sono tutta una serie di strategie Da cui puoi partire per creare queste connessioni forti Ok Però molti freelance non lo fanno Quindi Eh sì Io ho capito che questo poteva essere Come dire, almeno per me, no? Il modo per differenziarmi rispetto Fra il quale dei miei colleghi Anche se io Sono una persona estremamente aperta E mi piace condividere tutto quello che so Io non mi tengo nulla Con i colleghi e con chiunque Sì Si è visto, si è visto Ma guarda, alla fine sai che cosa penso? Che nel momento in cui tu comunichi quello che sai Poi prima o poi raccogli Ah Quindi Ottimo Cioè, secondo me essere, fra virgolette, gelosi di quello che si sa È un limite Bisogna superare questa cosa e cercare di Anche perché io tutto quello che so Lo devo a persone che hanno condiviso il loro sapere prima di me Quindi io devo ricambiare Io mi sento in dovere di dover ridare lo stesso valore a chi me l'ha dato all'inizio Una bellissima cosa No, no, una bellissima cosa Sono super d'accordo Cioè, anche il fatto di Magari questa cosa della gelosia, della concorrenza C'è un po' all'università, forse Sì, sì Sì, sì Ma nel nostro caso, ad esempio, nel mio caso Io non ho frequentato l'università Questa roba qua non mi è mai entrata in testa Cioè, per me, le persone mi aiutavano a crescere E io aiutavo le persone a crescere Non mi è mai entrato in testa di competere per un lavoro Alla fine siamo tutti unici e facciamo un lavoro diverso rispetto a un altro Anche perché, alla fine Non lo so, facendo un esempio tuo con un altro motion design, no? Alla fine, quello che convince il cliente A prescindere dal lavoro è anche avere a che fare con la persona Assolutamente Quindi se il cliente si trova bene con te Oppure gli piace come ragioni Qual è il tuo modo di fare, il tuo approccio al lavoro Quello è un motivo per cui magari il cliente ti sceglie Sì, è un valore Non hai il top delle skill Non sei, per dirti, per fare un esempio Però quella cosa lì comunque ti permette di lavorare rispetto magari ad altri Quindi è importante anche quello sempre nel discorso del branding Del personal branding Un ottimo consiglio questo Se sei un freelance o sei un'azienda E hai una maria di altri, tra virgolette, concorrenti Non importa perché puoi essere unico e riconoscibile Grazie appunto al brand Che ha la proposta del brand Una domanda interessante sarebbe Che cosa serve per imprimere il nostro brand E lasciare un'impressione del nostro brand Della personalità del nostro brand alle persone Che cosa serve? Sicuramente come ti dicevo L'ipnosi No, no Guarda allora dipende un po' dai casi Possiamo fare un esempio magari su un personal brand Allora quello che sicuramente conta è capire come comunicare Cioè devi fare un'analisi su te stesso E capire come vuoi comunicare con le persone Qual è il tuo modo, il tuo tono di voce Perché le persone poi guardando magari i tuoi video O guardando la comunicazione di un brand Tanto parliamo più o meno delle stesse cose Perché anche una persona è un personal brand È un brand Contano tante cose, tanti aspetti Anche l'aspetto estetico Come ti vesti, come ti poni Il tuo modo di parlare Sì, sì, sì Queste cose qui ti aiutano a rimanere impresso maggiormente Rispetto secondo me anche a quello che fai Cioè quello che fai come lavoro è una parte importante Però quello che le persone secondo me amano È seguire la persona Cioè capire cosa magari c'è il dietro le quinte magari del lavoro, del professionista Si affezionano alle persone Quindi le persone si affezionano alle persone Appunto per questo il brand deve somigliare sempre di più a una persona Allora, esatto Infatti c'è il concetto di human brand Cioè cercare di rendere i brand più umani possibili E infatti una cosa importantissima Che i brand, parlo in questo caso di aziende Non tengono mai in considerazione È il fatto di metterci la faccia Quindi magari l'amministratore Oppure comunque una persona all'interno dell'azienda Che rappresenta con la sua fisicità Con il suo modo di parlare Il brand Per renderlo più umano Per cercare di creare un collegamento più forte con le persone Certo Quindi bisogna rendere i brand sempre più umani Andando a ragionare anche sul carattere Ad esempio, facciamo un esempio Tipo Jeep Sempre riprendendo gli archetipi Cerca di creare una connessione con le persone Attraverso, non lo so La natura, l'esplorazione Ok Ora non lo so come lavorano sui social Se è un human brand Però questa è la direzione Cioè oggi per fare la differenza Non basta mettere Se sei un brand, un'azienda La foto del prodotto Devi iniziare a metterci un po' la faccia Come dire A rendere participi Anche, non lo so I tuoi dipendenti A cercare di coinvolgere maggiormente Le persone attraverso una connessione Ok Una connessione umana Diciamo che a livello visivo È importante che sia strutturato bene Nel senso che Ah sì, sì Hai un coordinato Un logo fatto in un certo modo Delle texture Degli elementi grafici a supporto Insomma Però quello che manca sempre Quello che manca sempre È quella connessione Che un brand Cioè può creare con le persone Ma che difficilmente riesce a creare Non cerca di trovare Quella connessione giusta O anche il canale Di come dire Giusto Per comunicare con le persone giuste Siamo stati di recente Con altri colleghi A un evento A Rimini Lì hanno spiegato un attimino I trend del 2023 E uno dei trend del 2023 È assumere dei tiktoker in azienda Quindi negli aziende Assumere dei tiktoker Per fare questi video Più leggeri, brevi, eccetera Mettendo fra virgolette Una persona che rappresenta visivamente l'azienda Tu pensa? Quindi è proprio un trend Assumere tiktoker Sì, sì, sì Infatti mi è venuta in mente una cosa E poi dimmi se è un approccio corretto E magari mi dici anche come si chiama Questo tipo di brand Quando Io conosco un po' di aziende estere Che usano ad esempio un personaggio Cioè Lomino Michelin Io conosco un'altra azienda Che si chiama Magalù Che è una donna Cioè è raffigurata con un character in 3D Lei si chiama Magalù E l'azienda si chiama Magalù Cioè se io parlo di Magalù O parlo di Michelin Io riconosco un personaggio Questo è avvicinarsi di più Alla persona, giusto? In parte sì Umanizzare Esatto Però è anche un modo Per aumentare la Come dire La memorabilità del brand Ah, ottimo Cioè Lomino Michelin Tu te lo ricordi Capito? Sì, sì, sì Ti ricordi più facilmente La forma dell'omino Che non il logo Ah, assolutamente Io il logo adesso Così su due piedi Me lo ricordo Però molte persone magari Non lo visualizzano Quindi probabilmente Per rafforzare la memorizzazione Del marchio Quindi del nome dell'azienda Hanno creato una mascotte Che in qualche modo Aiuta appunto A ricordare A ricordare il brand A volte sono Come dire Dei modi Semplicemente Per aumentare Appunto la memorabilità Perché poi L'obiettivo alla fine Di un logo È farsi ricordare Ah, certo L'unico obiettivo Di un logo È farsi ricordare Far ricordare o meglio Il nome dell'azienda Sì, sì, sì Farsi rimanere impressi Nella mente delle persone Cioè Se richiamo alla memoria O quando vado ad acquistare Una gomma invernale Per la mia auto Se scelgo La Michelin Sì, guarda Se ci pensi Probabilmente È l'unico brand Che ti viene in mente Subito Perché ricordi Il pupazzone Sostanzi Sì, sì, sì Gli altri non hanno Un appiglio Come dire Un appiglio mentale Un gancio mentale Che ti aiuta a ricordare Così su due piedi Non mi viene in mente Solo Pirelli Pirelli Sì, sì, sì Ma anche ad esempio Un'altra strategia È creare un audiologo Audiologo? Sì Tipo ad esempio Come fa McDonald's, no? Bravissimo Quello è un audiologo Ah, è questo Questo è un audiologo? Sì, sì, sì Attenzione Questo non avevo mai sentito Parlare di audiologo Sì, sì Ma non so se tu usi Mac Però quando accendi il computer Senti quel classico Assolutamente Esatto Quello è un audiologo Sostanzialmente È un suono che tu Quando lo senti È un gancio Per farti ricordare il brand Ce ne sono tanti La BMW, l'Audi Quella è sicuramente una strategia Quando sei un grande brand, no? Quindi quando comunichi Soprattutto attraverso canali multimediali Dove puoi appunto Trasmettere l'audio Quella è una cosa assolutamente da fare Sì, 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 sì La Apple ha giocato molto bene su questo Io non so se mi ricordo vagamente Ma quando Steve Jobs Stava radunando il suo team Per la Apple Ha appreso appunto Un musicista abbastanza conosciuto Per creare gli audiologhi del Mac Cioè l'audio del Mac Era creato da un musicista abbastanza conosciuto Sì, sì Probabile Conoscendo Steve Jobs Sì Lui di questo lo sapeva benissimo Sapeva benissimo Una domanda Un domandone scontato Che magari chi ci sta guardando La maggior parte lo so O magari no La differenza tra brand, marchio e logo Possiamo definire un po' le cose Così è tutto chiaro Allora, sì, sì, sì Allora, il logo, logotipo È sostanzialmente La parte visiva del logo, no? Sì Quello che tu leggi La parola che tu leggi Tipo Google È un logo ma anche logotipo Puoi chiamarlo in entrambi i modi sostanzialmente Il marchio è Ci si riferisce in realtà al marchio È sempre l'aspetto visivo di un logo Ma ci si riferisce a livello legale Quindi la registrazione di un marchio Quindi in ambito tecnico, legale Tu registri un marchio Mentre il logo è più la parte Ti riferisci più alla parte proprio creativa, visuale, no? Alla parte che tu riesci a leggere Quindi più alla parte estetica Marchio invece si utilizza Principalmente in ambito legale Ok Poi c'è marca Marca è sostanzialmente La parola brand in italiano Quindi marca e brand sono la stessa cosa E marca è la parola in italiano Che più fa capire Che non stiamo parlando solo del logo Ma stiamo parlando di un universo Di valori legati appunto a quel nome A quell'azienda Che è la stessa cosa Dicendo brand Come dire in inglese Ci riferiamo a tutto un universo valoriale Che rappresenta quell'azienda Sì sì Quindi ad esempio Io sono brasiliano, no? In portoghese Brand Noi lo chiamiamo marca Ah vedi Come anche in spagnolo Come in spagnolo Come in italiano Sì 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 Infatti brand Cioè abbiamo tutti questi Nomi in inglese E poi ci dimentichiamo Che poi Sì sì Diciamo che in italiano È un po' più Marca sai Lo dici Però brand ha un suono Secondo me Molto più interessante Sì sì Però è marca sostanzialmente Alla fine Quando ti riferisci alle marche di moda Spesso lo dici È una marca di moda Sì O un brand di moda Sì sì Poi c'è una diatriba Si dice No però Brand O una brand Vabbè questa qui È un'altra storia Io poi non so Se gli americani Hanno un brand Hanno una costruzione di brand Per farci imprimere Le parole Le loro parole A noi Però Cioè Prendiamo spesso Delle parole in inglese Invece di usare Le nostre parole in italiano Nella nostra lingua Eh vabbè Diciamo che nel Come dire Noi prendiamo molto Dall'America No? Ah sì Dall'estero Quindi inevitabilmente Soprattutto la parte Marketing Comunicativa Vedi tu È tutto da lì Tutte parole in inglese Quindi Sì 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 Non so perché però Il mondo Eh chi lo sa Chi lo sa Hanno un forte brand Bravo Esatto Eh sì Ma io ho sentito Ho sentito Che tu dicevi Prima di archetipi Giusto? Sì Esiste Un tipo di brand Che si parla di archetipi Cosa sono? Cioè Spiegami un po' Allora Gli archetipi sono Sostanzialmente Non è una cosa che nasce Nel marketing Nasce nella psicologia E sono Diciamo 12 personalità Diciamo così Sono 12 personalità Che sono state evidenziate Da uno psicologo Che si chiamava Jung Poi sono state utilizzate Nel marketing Per cercare di trovare Appunto Come ti dicevo prima Delle connessioni Con le persone E ci sono quindi Questi 12 archetipi Se li cerchi su Google Ti escono tutti Ce ne sono diversi C'è il sovrano L'esploratore Il burlone Insomma Ce ne sono diversi Io una volta Ho sentito parlare Di archetipo al brand È la stessa cosa Giusto? Sì Vabbè È il nome per Come dire È la definizione Per riferirsi Al fatto che tu fai Un'analisi Archetipale Per Riuscire a comunicare Meglio il tuo brand Ah fantastico Quindi vai a capire Qual è l'archetipo Che ti permette Di creare la connessione Con il tuo pubblico Facciamo un esempio Se ti dico Red Bull Che sensazione Ti viene in mente Ti viene in mente Magari una sensazione Non tanto legata Al fatto di bere Quella bibita Sì Ma adrenalina Adrenalina Esatto Sport estremo Sì Energia Energia Bravissimo Quindi magari C'è l'archetipo Dell'eroe All'interno Di questa Di questa Strategia Quindi loro Hanno cercato Di legare Una bibita Sostanzialmente A un concetto Più grande Al concetto Punto sportivo Di adrenalina Di superare I tuoi limiti E quindi hanno utilizzato Anche qui Degli archetipi E sono sostanzialmente Dei modi Per connetterti Con le persone Tu ad esempio Se sei una persona A cui piace la natura Probabilmente È molto più facile Che ti avvicinerai A brand Che hanno Questo valore Che comunicano Questi valori Di rispetto Per la natura Di esplorazione Di vivere In un mondo Più pulito Quindi è più probabile Che ti avvicinerai A questi brand E non ad altri Io ad esempio Sono molto legato A North Face Perfetto Mi prende molto Quindi io sono legato A che tipo di archetipo L'esploratore Probabilmente ti piace Anche viaggiare Ti piace No? Non lo so Dimmi tu Sì 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 No assolutamente L'idea di Essere sotto la pioggia Con una Jack-Arnold Face E non bagnarmi È bellissima Sì sì Però già il fatto Che magari vedi Ti immagini all'aperto Tu puoi fare un Conoscendo gli archetipi Quando conosci una persona Già vedendo Quello che indossa Già riesci a capire Effettivamente Qual è l'archetipo Che sta Con cui è connesso No? Sì 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 La sua personalità Esatto Quindi Assurdo E ora Non si utilizzano Tanto i singoli archetipi Però In alcuni casi Si utilizzano anche Dei mix Quindi quando si fa Una strategia Magari c'è un po' Di amante Un po' Di sovrano Prendi una serie Di caratteristiche Del tuo prodotto Del tuo servizio Cerchi di capire Quali sono gli archetipi Con il quale Puoi connetterti Con le persone E quindi adatti La tua comunicazione A quegli archetipi In modo da Connetterti Emozionalmente A livello emozionale Con le persone No? Le persone Devono diventare Dei portavoce Del tuo brand Sì Quasi diventa Un venditore Esatto Ti faccio un esempio Pratico Io sono un fanboy Di Apple Ok Ok Io ho il primo iPhone Da quando è uscito Per me Cioè la Apple Rappresenta Tutta una serie Di valori Mi piace Il modo di pensare Il fatto che Hanno questo stile minimal Think different Sì sì Che sono molto legati Al design Quindi incarnano Perfettamente Quelli che sono I miei valori E io sono Il primo ambasciatore Del loro brand Cioè io sono Di quelli che Sono in grado Di convincere Chiunque a comprare Un iPhone A comprare un Mac E sto facendo La stessa cosa Con il Bimby Non so se lo conosci Sì assolutamente Il Bimby è suo Ce l'ho da un po' E da Prima ero contro Però da quando L'ho conosciuto E ho iniziato a vedere Effettivamente Che ha tantissime qualità Quanto è utile Io potrei fare Il venditore di Bimby Bimby è Apple Sì 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 Guarda Alla fine Sono gli stessi concetti Cioè pure il Bimby Lavora Molto sul design Sulla robustezza Cioè veramente È un prodotto Che effettivamente Fa quello che promette Questa è la cosa importante Mantenere la promessa Sì è vero Uno dei pochi brand Che ti garantisce Una qualità Anche nel tempo Ma quanti Quanti tipi di Prototipi di brand Si parla Cioè L'archetipo al brand Allora Diciamo che Di base sono 12 Quindi sono 12 archetipi Ok perfetto Quindi in questi 12 archetipi Ad esempio c'è anche L'uomo comune No È legato ad esempio A Ikea Ok Chi va a comprare Da Ikea Va all'uomo comune La persona che La persona semplice Sì Insomma Non ha Necessità di qualcosa Di estremamente Lussuoso Costoso Ok Quindi ogni brand In qualche modo In qualche modo Ha i suoi archetipi Che di base Sono 12 Sono quelli più Su cui si basano Le strategie appunto Di archetipo al branding Ma La strategia di non Entrare in degli archetipi È sbagliata? In realtà In realtà è impossibile Non entrare in un archetipo Nel senso che Anche se tu non hai Una strategia E comunichi Attraverso la comunicazione Quello che fai Eccetera In qualche modo Si crea Una connessione Con un determinato target E se vuoi Possiamo cercare L'archetipo In quella connessione Però Se tu sai qual è Puoi battere Molto di più Su quella cosa lì Su quella connessione Per cercare di Non solo di far diventare Cliente Una persona Ma di fare in modo Che quella persona Senta il brand Come parte di sé Porti quel brand A tutti i suoi amici Cioè Creare la connessione forte Ti permette Di far esplodere Di farlo Come dire Di fare in modo Che siano le persone stesse A farlo conoscere A fare promozione per te Se tu ci pensi Pure l'Apple Non fa tanta comunicazione Cioè Non fa promozioni Sono le persone Che fanno promozione Per l'Apple Ma ci sono tantissimi brand Che fanno Fanno così Brand che non fanno sconti Sì 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 L'Apple ha Diversi milioni Di rivenditori Cioè Di venditori Bravo Esatto In maniera gratuita Esattamente Come altri brand Se qualcuno Mi chiede Una giacca Per andare in montagna Non ne consiglio Un'altra Esatto Perché Perché tu sei Un appunto Tu sei Sei diventato Un ambasciatore Di quel brand Un fanboy Perché un fanboy Ed è lì Ed è lì che Bisogna lavorare Secondo me Sulla parte Che non si vede Molte adesso Fortunatamente Si stanno avvicinando Le agenzie Te l'ho detto Lo fanno da sempre Però sono pochi Freelance Che seguono Questo percorso Però è fondamentale Anche per A livello di Come dire Di approccio Con il cliente Per dare qualcosa Di molto più solido Nel momento in cui Realizzi un logo Se hai sviluppato Anche una buona strategia Quel logo Nasce da una strategia Solida E quindi È come avere Una piantina Di una casa Quindi le fondamenta Sul quale costruirai La casa Una domanda personale Ma guardando Il brand Elgazi La prima tua impressione Qual è? Io Lo guardo molto Nelle intro Nelle intro Insomma Come avatar Allora Secondo me Elgazi Sostanzialmente Sei tu Ok Quindi Elgazi Poi Mi spiegherai Magari Perché Perché Elgazi Non so Se l'hai Già spiegato Però sostanzialmente Sei tu Quindi io Nel tuo caso Utilizzerei Il tuo viso Perfetto Perché le persone Si In qualche modo Vedendoti È come vedere Il tuo logo Il tuo logo È il tuo viso Certo Sostanzialmente Però dipende Dal progetto Che hai in mente Comunque A livello visivo Mi piace Però devi capire Effettivamente Qual è quella cosa Che ti permette Di connetterti Con le persone In realtà Secondo me Lo stai già facendo Però per crescere Di più Devi fare Comunque Un'analisi Un pochino Più profonda Magari Su Quali sono I valori Che vuoi Trasmettere Alle persone Quale può essere L'archetipo Ti aiuta Come dire A connetterti Però nel tuo caso Come dire A livello visivo Sei stato Molto bravo Poi comunque Il fatto che Utilizzi le animazioni Nell'intro Cioè fa capire Che cosa fai Forse non si percepisce Che lavoro fai subito Perché le persone Si concentrano molto Sulla parola E sul fatto Che fai le interviste Ogni tanto lo dici Quello che fai Però forse esce poco Il discorso Che sei Prima di tutto Motion designer E poi fai questa cosa Per condividere Le tue esperienze Per condividere Consigli Nel mondo Della creatività Io infatti Ho spezzato I due canali Quindi faccio Due comunicazioni Diverse Perché Una comunicazione È orientata A una tipologia Diciamo Di target E un'altra Ad un'altra Quindi Anzi Su friends for love Forse poi Lì ad esempio Non utilizzo il mio viso Perché non voglio essere Come dire Tanto associato A quello Ah perfetto Nel senso che È vero Sono È la stessa persona dietro Però il mio viso Lo utilizzo Principalmente Per essere riconosciuto Come professionista Dai clienti Mentre Diciamo L'altro progetto È un progetto Che Come dire Non voglio Che i clienti Scoprano facilmente Semplicemente Perché a volte Parlo anche Dei clienti Oppure magari Do dei consigli Su Come aumentare i prezzi Eccetera Quindi un po Come dire Non è il mio target Ecco Perfetto Quindi tu Hai separato I tuoi target E comunichi in maniera diversa Esatto Molto interessante E poi Chiaramente Voi che state guardando Se volete Altri consigli Chiedete A Roberto In privato Poi immagino Si faccia anche pagare Per la consulenza Non ti chiederò Altro Per un consiglio Sono Sempre a disposizione Sì sì Ma poi Tutti i suoi video E i contenuti Che fa Sono appunto Per dare una mano A chi è Perso in alto mare Come me Tu hai parlato Prima di trend E abbiamo un po Spiegato L'importanza Di Un brand Di un marchio Di un logo Se io Nel 2023 Perché stiamo arrivando Al 2023 Volessi creare Un brand Di successo Che cosa devo fare Perché tu hai detto Anche una cosa interessante Il trend Del 2023 Sarà Assumere dei TikToker Quindi Secondo te Qual è la ricetta Per creare Un brand Di successo Nel 2023 Dipende sempre Se parliamo Comunque di azienda O di Personaggio Nel tuo caso Se tu volessi Creare il tuo brand Sostanzialmente Vabbè Come dire Tu lo stai già facendo Ma il consiglio Che darei Ad altre persone Chi ci sta guardando È di iniziare A mettersi in gioco Di iniziare A realizzare video Di metterci la faccia Perché È quello che poi Fa la differenza Rispetto ad altri professionisti Ti faccio un esempio Non tutti i designer Hanno E di Trarsi In un video Oppure in un podcast Raccontando Le proprie esperienze Però questo fa Una grandissima differenza A livello di percezione Del valore Da parte del cliente Sì Quindi un cliente Che ti vede In video Ha una percezione Totalmente diversa Rispetto a chi non vede Cavolo Fa così tanto la differenza Sì Ti dico Che fa la differenza Perché questa cosa qui Come Già ti accennavo Ti aiuta anche Ad aumentare Anche i prezzi Con i clienti Con i clienti Perché Perché nel momento In cui tu Spieghi delle cose Quindi sei in grado Anche di insegnare Delle cose Perché le conosci bene Quindi le spieghi Insomma è come Quando vai dal Dal dottore E magari Quello è un dottore Che insegna All'università Oppure Sai E uno specializzato In una cosa Hai una percezione Totalmente diversa Rispetto a chi Magari Non Non conosci Non si mette Non insegna Non spiega Quello che fa È un rapporto Diverso Quindi sicuramente Il trend Per crescere Nel 2023 Sarà Mettersi In camera Riprendersi E raccontare Un po' la propria vita Ma la propria vita Professionale Non necessariamente La vita privata Però raccontare Magari Dietro le quinte Come si crea Un progetto Da dove nasce Insomma Condividere Il più possibile Quello può fare La differenza A prescindere I lavori che fai Nel senso che Se tu vedi Sul mio profilo Io ho pubblicato Pochissimi progetti Più che altro Perché non ho molto tempo Ok Come sai I progetti personali Sono l'ultima cosa Prima dai spazio Diciamo ai lavori Dei clienti Ad altre cose Però comunque I lavori ci sono Quindi questo dimostra Che non è tanto Quello che hai fatto Ma come sei Secondo me Ok Come ti mostri Come aiuti Come sei in grado Di aiutare delle persone Perché alla fine Poi il cliente Quello che acquista Da te Non è un progetto Ma è Risolvere un problema L'hai detto Anche tu In un altro video E questo si parla Anche per le aziende Giusto C'è la stessa cosa Sì 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 Anche le aziende Come ti dicevo Il trend Sarà Mostrare Di più Di più Il lato umano Io seguo delle aziende Che sto cercando Di convincere Per metterci Un po' di più Il lato Come dire Umano No Non so Parlo con L'amministratore Dell'azienda Chiedendogli Di raccontare qualcosa Realizza magari un video Dove spieghi i processi Di quello che fai Insomma Fai vedere Il lato umano Dell'azienda Questo purtroppo Manca Quindi sicuramente È una cosa Su cui bisogna Puntare Anche se uno Ha una piccola attività No Se tu vedi Su tiktok Gente che magari fa Il pizzaiolo Oppure Non lo so Che hanno una piccola Impresa Sì Facendo dei video Facendo Anche dei video divertenti Prendendo l'esempio Di tiktok Comunque hanno aumentato A dismisura Anche la parte economica No Il lavoro che è entrato Assurdo Perché Perché quella roba lì Ti aiuta comunque A farti conoscere Ad arrivare alle persone A trasmettere Il tuo carattere Il tuo modo di fare Il tuo approccio E le persone Cercano quello Cercano Come dire Vogliono stare bene Con altre persone Poi le persone Che attiri Sono sempre persone Un po' simili a te Quindi nel momento In cui Comunichi te stesso Attirerai Quelle persone Che un po' Vogliono essere come te O un po' Sono come te No Fondamentale Cercare di creare Dei legami Dentro la mia testa Non so se hai presente Quel meme Che C'è il tipo Che fa Pua Cioè Io Io Mi sento così In questo esatto momento In questo esatto momento Perché Sono cose che Davvero Sono semplici Ma fanno la differenza Cioè Messe in pratica Sembrano scontate Ma nessuno lo fa Io Fortunatamente Molti professionisti Che conosco Lavorano anche Sulla strategia Quindi sulla parte Valoreale Eccetera Ma la maggioranza No Però è fondamentale Per comunicare bene Il brand di un'azienda Il brand di un prodotto O un personal brand Devi partire sempre da lì Da come Vuoi connetterti Con le persone Perché quelle persone Dovrebbero seguirti Questa è la domanda Fondamentale No Sì Perché Cioè anche nel tuo caso No Perché dovrebbero seguirti Se sei in grado di rispondere a questo perché Già hai il tuo posizionamento Adesso Ma sai che dopo questa puntata Ho già una risposta Perché prima non ce l'avevo Ho già una risposta Cioè Potrei avvicinarmi di più alle persone Che sono il mio tipo Cioè Che somigliano un poco di più A quello che sono io E quello che cerco di trasmettere Conoscendomi Conosco anche Il mio pubblico E i miei futuri clienti O il pubblico Che poi avrò Cioè io sono contento Come ti ho detto ieri Su Whatsapp Sono contento del mio fallimento Su questo punto di vista Perché poi Lì È lì che riesco a capire Cosa funziona Cosa non funziona Sono contento del mio fallimento In questo senso Nel Avere una strategia Che funzioni E Appunto Parlare con te E scoprire Che Che posso avere Una strategia Per Il mio Il mio obiettivo Ecco E anche voi ragazzi Cioè Voi che state guardando Se voi non avete una strategia Contattate subito Roberto Oppure sentite fino alla fine Questa puntata Che vi verranno delle idee Che O riguardatela più volte Così Avete un'idea di Come creare una strategia Giusta Per Noi abbiamo parlato Prima di Freelance for love Tu adesso sei Nella posizione Opposta Ma spiegaci Spiegaci un po' Cos'è Freelance for love Allora E come ti senti Nella posizione Di intervistato Poi magari Ti contatto io Ti intervisto io Oh magari Ti do il doppione Della puntata Boh Magari ti intervisto Però Per conoscere I tuoi progetti Insomma Ah ottimo Più sotto il punto di vista Del professionista Allora Freelance for love Nasce Un bel po' di anni fa Io Allora tu calcola Che io sono Freelance da sempre Io non ho mai Mandato un curriculum Io ho deciso Fin dall'inizio Di essere freelance Per gestirmi il tempo Insomma Per gestirmi i clienti Perché volevo avere Come dire La possibilità Di organizzarmi Di scegliere No Quando lavorare Con chi lavorare Eccetera Però che cosa succedeva Succedeva che Magari prendevo l'inculata Si possono dire le parole Hai detto inculata Inculata Non si poteva dire Nel senso Sai quando Ti approcci con dei clienti Sei all'inizio Magari prendi un po' di fregature Ok Allora Nasce Freelance for love Come valvola di sfogo Inizialmente nasce come un blog Dove scrivevo Quali erano stati I problemi Che avevo incontrato E come pensavo di risolverli O come li avevo risolti Quindi nasceva come un modo Per condividere La mia esperienza Perché Quando ho iniziato Ero da solo E quindi Non sapevo con chi parlarne Ok E ho detto Come posso fare Per condividere questa cosa Che ho imparato Cioè Per trasmettere Questa cosa E ho pensato Vabbè Faccio un blog E ho iniziato a scrivere Poi da lì Poi da lì è nato il canale YouTube Un po' perché Per esperimentare Anche quel canale lì E un po' perché Mi scoccia un po' Scrivere Non sono bravi Cioè non è Preferisco molto di più I video Oppure La parte visiva Esatto Molto più visuale Molto più visuale Esatto Mi piace scrivere Ci sono i copi apposta Cioè Mi piace scrivere Però Ho molta più difficoltà Rispetto magari a Registrare un video A parlare magari Siamo in due Siamo in due Esatto Quindi Questo già ti fa capire Un pochino qual è la tendenza Cioè Cosa è quello che ti piace Quindi quando ho scoperto YouTube Ho iniziato inizialmente A fare dei tutorial Tipo ho fatto un tutorial Su come creare Dei mockup Con Photoshop Ok Probabilmente il tutorial Che ho visto sul mio canale Che mi ha portato Qualcosa come 500 iscritti Cioè Una cosa incredibile Cazzo Quindi ho iniziato Facendo dei tutorial Per raccontare un pochino Insomma Gli strumenti che utilizzavo E fra un tutorial E un altro Raccontavo Di esperienze con il cliente Oppure come dire di no Per non prendere quel lavoro Sì Come farti pagare di più Insomma Come gestire Anche la vita da freelance Da designer freelance Quindi davo questi Dispensavo questi consigli Che erano frutto Della mia esperienza Ora se un po' è evoluto Il canale Ho cambiato anche un po' La grafica All'inizio l'ho fatta molto Alla veloce Insomma Sì 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 Per buttare giù Il progetto Non ho pensato A diciamo A creare un Un'identità omogenea Eccetera Adesso Cercando di migliorarla Anche se Essendo un progetto Free Dove Un progetto di divulgazione È qualcosa che veramente Faccio nei ritagli Quindi ora Se un po' è evoluto Nel senso che Lo voglio portare più Verso la creatività Intervistando Persone creative No? Sì Con lo stesso progetto Che hai tu sostanzialmente Quindi siamo molto simili Su questo E poi ogni tanto Raccontare Di quelle che sono Le mie esperienze Da freelance Cioè Come dire Quella che era L'idea di base Rimane Raccontare La mia esperienza Ok E lo farò solo lì Nel senso che lì Racconterò Quello che Insomma Che è la mia vita Da freelance Mentre invece Sul mio canale personale Lì sarà Principalmente orientato Sul branding Sono due contenuti Pazzeschi Cioè Nel tuo canale personale Io spero che metterai Sì sì In futuro Altri video Perché Veramente Quei contenuti Sono utilissimi E poi Il canale Del freelance for love Che è pazzesco Conoscere Le tue storie E le storie Di altri professionisti Come in questo caso Io ho avuto Un buon riscontro Immagino anche tu Dal punto di vista Umano Cioè Conoscere così Tante persone Ti aiuta davvero Se in questo caso Cioè Stiamo facendo Un sacco di conoscenze Anche le persone Che poi commentano Partecipano Le persone che intervissi Sono È una risorsa Molto molto bella Dall'atto umano Conoscere altre persone E connettersi In questo mondo Cioè Noi ci siamo conosciuti Su internet Sì 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 Guarda io Non siamo mai visti Io ti dico che Nel momento in cui Inizi a condividere Succedono delle cose Incredibili Sì Cioè io Questo progetto Di iniziare A intervistare Dei creativi È nato Da una storia Che ho messo su Instagram In cui condividevo Una cosa Ora non ricordo Di preciso qual era E una persona Mi ha scritto Da lì praticamente È nata Un'intervista È iniziato Sono iniziato Tutta una serie di cose Che poi ti permettono Di capire Anche meglio Dove vuoi andare Ma soprattutto Ti aprono A un mondo nuovo Che è quello Di conoscere Tantissimi professionisti Di condividere Con loro Delle storie Di imparare Anche da loro Perché poi Ogni intervista Che tu fai Impari qualcosa Quindi è un modo Frequente Per avere anche Una consulenza Gratuita Però è una cosa Bellissima Quindi anche tu Quando mi hai contattato E mi hai chiesto Insomma se volevo Partecipare Per me È stato fantastico Anche perché io poi Ti seguo Quindi sono ben contento Abbiamo anche Delle amicizie in comune Ah sì Tipo Barbare Quindi sono ben contento Di condividere Qualsiasi cosa E per questo Tutto nasce da lì Dal condividere Quindi ci credo molto In questo progetto Anche se Sono stato un po' incasinato Perché c'è un bimbo piccolo Come ti dicevo Ah beh sì Quello ti Ti prende tanto Però dal 2023 Riprenderò A fare Tantissimi video E dai Dai sì sì Io sono contento Sono contento No questa 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 cosa Che è interessante Noi Facciamo un progetto Molto simile E io Spero davvero Che Senza Senza Dire Cioè Parlando seriamente In maniera sincera Ci sono pochi contenuti Di questo tipo Quindi più ce ne sono Meglio è Perché Ne beneficiamo noi Noi creativi E Ne beneficiano gli altri Facciamo crescere Una comunità Che Forse Dorme Online Perché ci sono più Contenuti di intrattenimento Ci sono più contenuti Anche più banali Vengono anche più apprezzati I contenuti banali Invece noi Creiamo contenuti Magari Più legati Alla crescita Lavorativa Personale E anche Conoscere dietro le quinte Dei progetti È interessante Infatti anche il mio progetto Nasce Per far conoscere Dietro le quinte Dei progetti Più grandi Dei progetti più grandi In Italia O anche Nel mondo Perché ci sono Professionisti Italiani Che Fanno progetti Pazzeschi Cioè Io Non ho conosciuto Questa persona Ma so che Ci sono animatori Che hanno animato Per Klaus Cioè per Netflix Quindi Cioè capisci Che l'Italia Ha un grande Numero di Creativi Che non vengono mostrati E io e te Siamo facendo vedere Li intervisteremo tutti Ci sono questi creativi Sono dietro le quinte Sono magari dietro Al monitor Sempre Noi li portiamo A galla Quindi sono contento Che Condividiamo Lo stesso Progetto Sono d'accordissimo E Questa secondo me È la grande forza Di questi progetti Far conoscere Anche la storia Che c'è dietro Ogni creativo Che intervisti Questa è una cosa Molto bella Qual è il tuo Il tuo Riscontro Positivo O negativo Produrre contenuti online Allora Sul mio canale Quello personale Dove parlo di branding Il riscontro maggiore Che ho È in termini di Percezione Di un maggior valore Da parte dei clienti Sì Come ti accennavo Nel momento in cui Un cliente Mi cerca Su Google Perché magari Ha sentito il mio nome O qualcuno Gli ha consigliato me Magari uno Dei primi contenuti Che Google Suggerisce È un video E questo video Viene visto Da questo cliente Quindi il cliente Già Ti conosce Perché ti ha visto In un video Quindi nel momento In cui poi Ti conosce dal vivo È come se già Ti conoscesse un po' Magari anche tu Vedendo i miei video O io vedendo i tuoi video Ho l'impressione Già di conoscerti È vero Come se avessi Un'impressione Di conoscerti E questa è una cosa Importante Cercare di creare Un rapporto Ancora prima Con il cliente Ancora prima Di conoscerti dal vivo Lì Ho avuto Un ottimo riscontro In termini proprio Di richieste Di preventivi E di maggiore percezione Di quello che faccio Da parte del cliente Anche perché Nel momento in cui Io faccio un video In cui ti spiego Perché un logo Non può costare 50 euro E ti do tutte le mie ragioni Nel momento in cui Il cliente vede Quel video E viene da me Già sa Che In qualche modo Lo formo Lo mentalizzo Lo educo A quello che è Il mio settore È anche un modo Per educare I clienti I clienti Esatto A capire Che cos'è un brand Perché bisogna investire In un brand Non solo nel logo E così via Quindi a livello personale Sul mio canale personale Ho avuto un ottimo Riscontro Su quel lato Invece a livello Su Freelance for Love Il riscontro migliore Che ha avuto È come anche Immagino per te È il fatto Di creare Tantissime connessioni Di creare connessioni Con tantissime persone Di creare Delle collaborazioni Sì Non ti nascondo Che sono nate Delle amicizie Proprio Delle amicizie Con persone Con il quale Che sono Diciamo Più vicine a me Col quale Andiamo a mangiare La pizza Insomma Nascono delle cose Che se non avessi Condiviso Quei contenuti Probabilmente Non sarebbero mai nate Ah sì 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 Anche nel mio caso È la stessa cosa A livello Su Freelance for Love Come dire A livello di Di monetizzazione A livello monetario Non Praticamente nulla Nel senso Non ti porta Nessun tipo di riscontro Come dire Nel breve termine Però alcuni contenuti Che vai a creare Possono creare Possono Diciamo Darti la possibilità Di fare delle cose Sì Come ti accennavo Avevo fatto una guida Su Notion Perché è un programma Che utilizzo Non so se lo conosci Notion Allora Notion È un programma Che quando lo apri La prima volta Lo chiudi Lo chiudi e lo cancelli Perché dici Che cos'è Non riesco a capire Che cos'è Una volta che hai capito Che cos'è Che entri nella logica È come se fosse Una sorta di sito web Dove tu puoi organizzare Tutti i tuoi contenuti Qualsiasi Ad esempio Io tutte le scalette Dei video Li organizzo tutti Su Notion Tutti Il piano editoriale Il calendario editoriale È tutto lì Già è tutto pronto Devo solo realizzarli Però È tutto organizzato lì È un programma Di gestione Della tua vita Lavorativa O della tua vita privata Ma anche semplicemente Per metterci delle ricette Ah ok È un programma Che può essere Quello che ti serve Lo puoi plasmare In base a quelle Che sono le tue Necessità Lo devo conoscere subito Che uso Tipo Milanote Ok Allora È simile Simile Però Notion Ha delle potenzialità In più Comunque Se lo cerchi Probabilmente Ti escono un paio di video Tranquilli Non mi guarderò i tuoi video Cioè Adesso ci sono state Delle piccole evoluzioni No Perché comunque I programmi si aggiornano In continuazione Però la base è quella Quindi Per dirti Io ho fatto questa guida Su Notion Mi sono arrivate Delle richieste Di collaborazione Da parte di aziende In cui mi si chiedeva Appunto Di realizzare un corso Per loro Quello che tu fai In qualche modo Genera delle conseguenze Che possono essere Positive o negative Anche in desiderio Capire Se è effettivamente Una cosa Che vuoi fare O no In quel caso lì Io ho fatto quella guida È un programma Che mi piace È un software Che utilizzo tutti i giorni Potrebbe essere Un'opportunità Anche se non è Strettamente legata A quello che è Il mio mondo principale Il mio mondo lavorativo Però Oltre il lavoro Ci sono anche Tante passioni E quindi Quelle passioni In qualche modo Puoi raccontarle E possono comunque Diventare un'opportunità Sì E su Friends for Love Sostanzialmente è così Quindi mi porta In termini Come dire Di conoscenze Sì Di sfogare Quelle che sono Le mie passioni Oppure di raccontare Come ho risolto Magari un problema Tecnico Su un programma Come agevolare Non lo so Qualcuno Nel trovare La soluzione Più veloce A un problema Magari su Photoshop Ok Ok Diciamo lì Quella è una valvola Di sfogo Ecco Ok Da questo punto di vista Mi hai fatto capire bene Che cosa Come Qual è la differenza Tra i due Cioè Magari non vuoi che i clienti Entri Non Sì sì Allora diciamo che Per un motivo Sì sì Te l'ho detto I clienti Lì parlo comunque Di clienti Nel senso che Su Friends for Love Racconto comunque Anche semplicemente Quali sono le frasi Da dire Per Non prendere un lavoro Per dire di no A un cliente Per dirtene una Quindi Ci sono delle cose Che giustamente Se il clienti vede Magari la risente Quella frase Dice Aspetta ma Sì 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 Ma questa è assolutamente La prova La prova che Tu sai differenziare bene Il tuo target Sai Parlare bene Comunicare bene Ai target diversi Quindi ragazzi Se avete bisogno Di una consulenza Contattate Roberto Anche se Ti dico che Con gli ultimi contenuti Che sto pubblicando Su Friends for Love Dato che li sto Orientando comunque Verso la creatività Sai esce comunque Secondo me Da quella che è la mia immagine Quello che sono davvero No Sì Una persona che vuole Semplicemente condividere Delle esperienze Sì Che comunque è una cosa bella Secondo me è una cosa che Anche se dovessi andare Un cliente lì Vedi che comunque Magari intervisto Altri creativi Magari parlo Della partita IVA Perché su Friends for Love Ho parlato Nell'ultimo video Anche della Di come sono Di come nasco Anche a livello fiscale Qual è stato il mio percorso Per aprire la partita IVA Queste cose qui Sono comunque contenuti Che non sono per il cliente Però il cliente può apprezzare Perché comunque Esce la mia personalità No Assolutamente Assolutamente sì È un'ottima strategia Quella di differenziare Anzi è un po' È un po' È un po' Infatti sono quasi O un po' Un po' Un po' O che vanno a stuzzicare una parte li darei come dire alla mia famiglia per dare una mano sicuramente perché se sono infiniti anzi probabilmente il mio primo obiettivo sarebbe dare una mano quindi aiutare comunque delle persone i soldi sostanzialmente non fanno la felicità quello che ti rende felice io poi non sono uno venale pure con i clienti io non parlo mai di soldi nel senso che il soldo è una conseguenza della tua professionalità di come sei, di come lavori se lavori bene è una conseguenza non è l'obiettivo esatto, non è l'obiettivo per me non è mai stato l'obiettivo e ti dico che comunque nonostante faccio questo lavoro da freelance i soldi arrivano, non mancano posso dire di essere soddisfatto però non l'ho mai visto come un obiettivo quindi sicuramente aiuterei come prima cosa e poi con quello che avanza investirei non lo so farei delle start-up investirei magari nei progetti di start-up di persone che vogliono creare un progetto cercherei insomma di aiutare più possibile anche sotto questo punto di vista proprio di investimento e poi aiuterei tutte le persone mie care insomma che mi sono vicine sicuramente questo e poi non so gli altri come hanno risposto no no ma non è la stessa domanda quindi cioè capisci anche adesso perché la domanda per conoscere di più la persona perché anche lì viene fuori tramite questa domanda o tramite un'altra domanda viene fuori una personalità una domanda assurda che magari appunto hai tirato fuori il tuo lato umano e hai fatto capire che il successo vero è quello che non è legato assolutamente a niente ma io tipo non mi verrebbe mai in mente non lo so di comprarmi una villa o un macchinone non ci riuscirei non è proprio nelle mie io poi sono un tipo che non mi piacciono molto non mi piace ostentare certo sono un tipo molto semplice molto mi può contattare chiunque sono una persona veramente effettivamente semplice quindi non comprare mai una Ferrari per dirsi non la trovo inutile la domanda fa capire bene cioè che il fatto che tu viva per un altro motivo cioè anche se tu hai tutte le risorse del mondo non importa cioè la tua vita continua uguale infatti l'hai provato tutto quello che hai detto non è importante se sono infiniti lo fai comunque cioè aiuti comunque le persone perché condividi i tuoi contenuti e aiuti senza nessun problema senza nessun vincolo aiuti anche la tua famiglia perché lo fai già comunque quindi il lato umano in questo senso è venuto fuori e io cerco di di tirarlo fuori anche negli ospiti non faccio la domanda sempre legata ai soldi ma anche anche questo spiega un po' l'atto umano delle persone che conosco che porto nel podcast magari la stessa domanda poteva essere con una bacchetta magica che cosa faresti cioè verrebbe fuori la personalità quindi sì ma poi ritornando a questa domanda se tu fai qualcosa per soldi difficilmente farai qualcosa cioè riuscirai poi a raggiungere qualcosa devi fare prima di tutto qualcosa per passione che è quella che poi ti dà una grande soddisfazione bisogna amare amare quello che si fa sì sì che poi finisci per essere così povero così povero che l'unica cosa che hai sono i soldi sì sì è questo sì sì diventi povero dentro questo è il concetto condivido a pieno quindi abbiamo portato un po' il rapporto human centered anche in questa puntata dai human brand Roberto io ti ringrazio davvero saluto tutti quelli che sono stati con noi tutti quelli che hanno partecipato e che sono stati che stanno che hanno guardato questa puntata o riguardato perché secondo me va riguardata per rivedere tutti i concetti e tutte le belle cose che ci hai aiutato a trasmettere e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 con una puntata nuova del podcast su Spotify e tutte le piattaforme di podcast se volete vedere il video perché abbiamo anche il nostro video e condividiamo anche i lavori di Roberto e tutti i suoi i suoi progetti potete vedere i nostri faccioni su YouTube e anche Spotify perché su Spotify abbiamo le puntate in video Roberto dove ti possono trovare le persone allora sicuramente anche se ci sono tutti i link sì 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 principalmente su Instagram sì nel senso che lì potete anche contattarmi scrivermi un messaggio sia su cercandomi con nome e cognome oppure su friends for love c'è anche lì la pagina perfetto c'è il profilo Instagram stessa cosa su YouTube perfetto quindi lì sono principalmente i due canali come dire i canali su cui pubblico maggiormente e poi c'è il mio sito web che più per i clienti insomma noi vi salutiamo ciao ragazzi ciao a tutti grazie ciao 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 sigla ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.